Ciao ragazzi, benvenuti al mio nuovo video di YouTube, se vi piace date un like e iscrivetevi. Oggi facciamo... Palloncino blu. Cominciamo! Palloncino blu. Palloncino blu. Grazie ragazzi, che avete visto il mio video... E non dimenticate Darmi un like Iscrivetevi E schiacciatelo con panella Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi